la migliore atleta che ha stregato la giuria, la commissione che ha votato tra i tanti forti atleti, non era di certo sola a competere, ma in avanti cominci, si è meritata l'Oscar di migliore atleta nelle competizioni 2013, lei che è Bulldog, l'Inter sempre presente, sempre agguerrita, sempre lì davanti, e allora questa è la fata, questa è la vita, questa è la finale finale, e lei è fina, a Marco vince, andiamo! Great time, in Ammarcovich, from Slovenia, diversa competition, great, incredible collection of football medals, winning yesterday night, in Ammarcovich, World Legends, fantastic night from Lora, and the crown of Calascomb, like we're teaching on board, winner of the world regain 100 and tw come true love to Lora, winner of the world's nel 2012, winner of the world gren destruir il avver OUTON��er Pingosta at симpauler 12, leader, è bellissimo oggiare il mondo captainna dove già Ε57 stangen a sincere inemi di allowance perätta le vendette del tumore della imm 찾아, Schia Impresa occupa di migliore lavitatura è una scantuma, illighi di migliore, durante una scantum dal lì, sente l' fondo, è tutta la scantum del tumore dell'Edco, ma anche il secondo giusto in un nuovo giusto con la prima volta con una grande scuola e la prima volta con una scuola con un giusto con un giusto con una nuova scuola in una baffa piccia suga 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 quanto giurata la tua parte un curriculum veramente infinito di spessore riascugiamolo l'atleta da vangere a questo giro in questa stagione in questa coppola del mondo che sta dominando alla grande Vina Markovic pronta, reattiva forte, moderna resistenza tutto dentro questa attenzia a scuola che quest'anno sta subendo il circuito internazionale non a caso ha arrivato l'oscar ieri sera tenne le sue mani questa sera andiamo a caccia di un coppola come on Vina come on come on come on come on come on come on non esita avanza brava Vina andiamo vogliamo andare in alto come on come on come on come on venire ieri ora vina vina come on E' la rega, non ho mai sentito. E sale il braccio, arriva la mano, presa e la presa, e la mano comincia qui, il cuore di questa finale, vinta femminile, andiamo, a lì! Sì, sì, sì! Prende e va, perché adesso è il tempo di andare in alto, giusto quella, un po' a sinistra e poi, vogliamo ricominciare a sognare verso destra, orizzontale, Mila Markovic, vediamo cosa si spenta. Sta agganciando sulla canna la destra, mamma mia, una prova di forza questo, un orologio, un orologio, un orologio, chi l'ha, e si lascia senza fiato! due nonna sa che adesso tra due mani si può riposare lì ma in che piatto guarda lontano lo sguardo guarda la marcia altro siete pronti? fatevi sentire andiamo si parte andiamo abbraccia adesso va a destra c'è una nuova piccola da mettere sotto le dita ma nessun timore c'è l'ina e avanti andiamo guarda la mia voce sulle mani colombina guarda la mia voce guarda la mia voce Grazie a tutti.